Siamo a bordo piscina del bagno moderno a Marina di Grossetta con Stefano Rosi, l'istruttore dell'associazione Tartasub, che anche quest'anno organizza questi pomeriggi per i bambini ospiti del bagno moderno. Stefano, vediamo tantissimi bambini, è un bel divertimento per tutti e anche per voi. Eh sì, ci siamo divertati tantissimo, con tante emozioni con i bambini, poi quando c'è i bambini ci sono i sorrisi, in più abbiamo quest'anno messo anche il discorso della Sirena, che comunque la nuova attività l'abbiamo implementato per far ridere cose per i bambini e divertirci con i genitori e ci sta da Dio, benissimo. Dopo tanti anni di impegno della vostra associazione si cominciano a vedere risultati perché adesso ogni estate siete attesi dai genitori e dai bambini e si vedono pomeriggi di divertimento. Eh sì, la cosa bella che i bambini oggi ti dicono voglio fare il corso del Tartasub, non sapendo neanche cosa, perché gli faccio sempre la domanda, ma cosa tu vuoi fare? Eh non lo so, il Tartasub! C'è del tipo, vedo, è un tipo una cosa per loro bellissima da fare. Comunici, presidente dell'associazione Tartasub, un altro pomeriggio, si può dire, di attività, ma soprattutto di festa al bagno moderno, vi divertite più voi struttori, più bambini e più genitori? Sì, è proprio così. Siamo un po' tutti nel divertimento completo, i bambini fanno delle esperienze come sempre stupende, questo è il settimo anno forse, ho perso anche un po' il conto delle volte che siamo qui al bagno moderno, che ci dà questa utile ospitalità. I genitori sono contentissimi perché fanno fare una bella esperienza ai loro bambini, un'esperienza nuova, completamente nuova, i bambini si divertano, proprio adesso sono uscito con Marta, che era titubante all'inizio, ma poi è uscita fuori con un grandissimo sorriso e per noi questa è la più grande soddisfazione. Dopo anni di attività, come ricordava il presidente, l'associazione Tartasub è conosciuta e si vede anche da questi pomeriggi molto partecipati, anche in vista della stagione invernale, che a questo punto può partire con i migliori ospici. Sì, noi come sempre facciamo nella piscina della WISP le solite attività con i bambini, abbiamo quest'anno introdotto una nuova cosa che è l'acquaticità subacquea per bambini un po' più piccoli, siamo partiti da sei anni, abbiamo sperimentato l'anno scorso e vedremo anche nel proseguo delle stagioni come andare. Quest'anno abbiamo introdotto qui al bagno moderno per l'estate l'esperienza Sirena, che è una nuova attività che noi facciamo fare a bambini, vestendoli con la tuta da sirena e la pinna da sirena e si stanno divertendo tantissimo.